E fatti i scopi. Giusto? Quindi tu giocando così, hai giocato due scopi, non una, due, perché se tu hai tre donne, lui la donna non ce l'ha. E quindi tu così rischi due scopi, quello che non capisci tu? Sì, lui capisce. Lui capisce, e tu capisci due scopi. E tu capisci, e tu cacchè.